Si è svolto al Teatro dell'Osservanza di Imola l'incontro pubblico per dialogare sulla qualità del sistema sociosanitario emolesa nel sistema metropolitano. Una macchina in movimento, quella dell'integrazione sanitaria, che sempre di più sta coinvolgendo i tavoli tecnici per confrontarsi sulle esperienze di sinergie in atto. Non è all'ordine del giorno la fusione delle aziende, è all'ordine del giorno il fatto che nessuno può stare da solo, perché nessuno è autosufficiente, neanche Bologna. Bisogna mettere insieme la rete e bisogna fare in modo che ogni grande ospedale di questa città metropolitana, Imola compresa, abbia dei percorsi e i cittadini siano curati nel luogo giusto. Siamo in un territorio fortunato, abbiamo nei 30-40 km tutte le migliori strutture specializzate per curare al meglio le persone. Si tratta solo di rafforzare la nostra identità, perché la nostra è un'azienda importante del sistema metropolitano, che ha una sua identità, una sua autonomia ed è utilissima che sia un ospedale di primo livello un punto di riferimento dell'intero sistema metropolitano. Le ragioni della prossimità devono essere tenute in grande considerazione, andare di pari passo con i miglioramenti che dobbiamo invece portare avanti riguardo alla complessità. Dobbiamo trovare un equilibrio tra le esigenze di concentrazione della casistica, quella più complessa, che ha bisogno di sedi dove si è più attrezzati per affrontarla. C'è invece la stragrande maggioranza della casistica che ha la possibilità di essere erogata in prossimità. Quindi il progetto non è un progetto di taglio, non è un progetto di accentramento, ma è un progetto che mira anche a mantenere un'adeguata diffusione della risposta nei diversi ambiti territoriali.